Per realizzare roxida in effetto ossidato, applicare una rasatura di forma 0251 con frattazzo di acciaio inox, realizzando uno strato non troppo elevato che riesca a coprire le rugosità e che uniformi adeguatamente il supporto. Prima della completa essiccazione, applicare un secondo strato eseguendo una tamponatura con pennello o spatola inox in modo irregolare. Prima che il prodotto essichi completamente, lisciare delicatamente la superficie con il frattazzo. Ad essiccazione avvenuta del fondo, applicare un sottile strato di roxidan finitura 0271 con il frattazzo di acciaio inox su tutta la superficie, rimuovendo gli eccessi di prodotto. Grazie a tutti!